la donna ma chi è che sta squillando sto telefono? meno male che ho la cornetta a disposizione pronto? ah ciao nonna come faci? stai buono? eh sì tu mi telefono quando sto in macchina e rispendo in macchina ho capito che non si deve parlare in macchina però hai la cornetta la tecnologia oggi è cambiata eh la cornetta non ho chi fai la cornetta o cornetta che ha cremarino la cornetta è un telefono vicino tu ricordi eh sì la cornetta quando parlavo tu e io parlavo con un nonno che diceva oh vai io eh questo po' la cornetta l'attacca l'attacca un telefonino e può parlare così capite? più pratica eh eh sì sto parlando della macchina se tu mi ti lievi quando sto guidando nonno vieni 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 a mangiare per le sette non ti preoccupi eh beh sono vestito pure mi sono vestito pure caldo non ti preoccupi ma oggi tengo solo eh tu stai buono la pressione t'ha misurata eh non ti sforzare eh ancora questa cornetta non è una cornetta con la crema è una cornetta con un telefono 10 che ora lo attacca il telefono hai capito? madonna madonna vabbè ci capisci? sì no ma se tu faccio vedere la cosa è di color verde va bene bene e a proposito la foto che ho fatto da facebook da giunice eh ah ah stai contento eh ma da giunice delle catene via piccone in capo così stai più bello? e tu marito che sai sempre bello da giunice che ti dà no? va bene va bene va bene e fammi guardare che se no la cornetta si scarica non si scarica la cornetta, si scarica il telefono non è una cornetta con la crema ma ho capito che io vado a comprare una ti porto una cornetta con la crema stasera ok, bacione non ti vuoi tanto bene ma proprio tanto tanto sì, sì, non ti preoccupare bacione una cornetta no 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 ci sentiamo un momento eh stiamo bene bacione pure a te sì ti voglio bene assai ah, si, si va a regalare se c'è della crema regia ma fra cent'anni non ti preoccupiamo no bacione ah, sento rumore eh no, nella canzone stiamo da macchina da giurizzo che stiamo da macchina eh, sono i moda i moda no no no, come ti ha già spiegato è uno gruppo musicale che si chiama i moda eh, stai facendo i canzoni sono bella, ti piacciono le canzoni di moda e l'ho da accanto un cd, eh babone, poi ci sentiamo stasera nonno, se non mi fai quello che hai già fatto non faccio questa assetta a casa babone ah, ma non sento più rumore è finita la canzone nonna mannaggia vieni com'è capata questa cornetta babone, no no lascia stare non è un cornetto ci sentiamo più tardi ok ciao 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 nonna mamma mia quanto ti voglio bene nonna ciao 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 eh, la nonna mia la nonna mia è una cosa speciale eh, la nonna è troppo forte ciao